Ciao ragazze, oggi giornata video, spero che la luce vi piaccia, che vada tutto bene, perché appunto ne girerò un po'. Nello specifico veramente dovrei completare un po' di video che ho già girato, come ad esempio quello del video haul. Praticamente l'altra volta, a parte che mi si è interrotta la registrazione un po' così monobrusco, e poi ho dimenticato di farvi vedere alcune cose, quindi ho accorto la parola al basso e ho detto la prossima volta faccio vedere sia le cose che ho dimenticato e le saluto per bene, insomma, faccio una conclusione del video carina. Oggi ho questo stile gotico barra bambolina voodoo, perché ho voluto mettere questo rossetto qui della Kiko, che aspettate che lo prendo così ve lo faccio anche vedere. Di questo rossetto vi avevo parlato nel mio scorso video, mi preparo con voi, ed è questo qui della Kiko, e io credo che sia, come vi dicevo nell'altro video, il 522, ed è praticamente questo colore qui, nero-violaceo, molto carino. E quindi fatemi sapere se anche a voi piace. Per quanto riguarda invece gli acquisti che ho fatto e che ho dimenticato di mettervi nell'altro video, uno fa parte sempre degli acquisti riguardanti Piazza Italia, ed è questo jeans, che ha le tasche fatte così, ha un lavaggio classico, sotto va bello stretto, e l'unica cosa che però non mi piace tantissimo, non cominciamo chi non mi mette a fuoco, eh? L'unica cosa che non mi piace tantissimo, vi dicevo, è che la vita è abbastanza bassa, e ultimamente, veramente, io non li sopporto tanto i pantaloni a vita bassa, credo che mi abbia avuto una zanzara. Però per il resto, cioè, ne avevo bisogno, ve l'avevo detto anche in un altro video, e quindi ho deciso di acquistarlo, nonostante la vita abbastanza, anche perché questo stava al 50%, quindi stava a 17 euro, l'ho pagato sugli 8 euro, quindi diciamo che era un prezzo abbordabile. Stavo dimenticando un'altra volta di farvi vedere le scarpe che ho acquistato. Allora, sono delle scarpette che vi ho messo anche una foto su Instagram, per chi, quindi qualcuno già le avrà viste, e sono queste, che sono un incrocio tra le spadrilas e le ballerine. Già le ho indossate per l'appunto, perciò ho messo la foto su Instagram, e in realtà ero indecisa di prendere queste, o le ballerine, quelle fatte proprio con tutto il pizzo, solo che quelle là, proprio come le ho provate, già sentivo un dolore e ho detto, no, non voglio soffrire. Queste invece, qui dietro sono più morbide, anche se un po' l'altra volta mi hanno fatto male qui, in questo punto qui. Però diciamo che per essere delle scarpe riprese dal cinese, pagate 10 euro, ci possono andare bene. Che dite? Vi piacciono? Sono carine per questo periodo, comunque per la stagione primaverile. Una cosa che ho preso dai buy, perché ultimamente è ricominciato il mio periodo i buy, che compro tutto proprio a questi convulsivi, è questo, che è un fondotinta in polvere della Stila. Guardate quanto è carina la scatoletta. In realtà questa sarebbe una ricarica, diciamo così, nel senso che ho il fondotinta in polvere vero e proprio, ha proprio il suo vasettino, che si apre sempre con l'angelo, fatto così, e questo qua invece va, quando finisce appunto ricomprate la ricarica. Anche se questo cosetto di plastica è fatto abbastanza bene, infatti la cialtina è proprio incollata sopra la plastica, anche se è facile toglierla. e si presenta quindi con la cialtina dentro la plastica e poi ha anche la sua spugnetta in lattice. E questa colorazione qua è la colorazione shade E. vediamo se ce lo mette a fuoco. E ha anche un SPF 26. Non so. Ok. E vi dicevo, quindi, questa è la cialtina. Dal rivenditore dove l'ho preso, questa l'ho pagata meno di 3 euro, tipo 2,70 euro, però l'unica pack è che la colorazione E era l'unica disponibile, quindi non si potevano scegliere colorazioni. e questa a me sembrava un po' scuretta. Vedete, va proprio un po' sul marrone, però ho pensato alla fine, male che vada la uso come terra. Anche se poi vi faccio lo swatch. Allora, questo è il colore. Spero che si riesca a vedere. E poi vedete che una volta steso alla fine lascia una bella setosità da quello che sento al tatto. senza però andare appunto a pigmentare la pelle chissà quanto. Quindi diciamo che può essere utilizzato anche un po' come cipria. E per la stagione estiva diciamo che questo mi piaceva, lo volevo provare, anche perché appunto ho trovato un prezzo non troppo esagerato. E poi questo rivenditore di EBAI che sarebbe, questo non vengono dalla Cina, bensì dall'Inghilterra. E questo rivenditore davvero mi piace perché le cose mi arrivano nel giro di una settimana. E poi all'interno trovo anche la ricevuta. Infatti ho preso, a parte questo, anche ho ripreso il cancelletà della Maybelline. Non so se ve l'ho fatto già vedere. Sì, penso nel... il mi preparo con voi. Adesso non lo vado a prendere. Però avete visto, aveva tipo le scritte tedesche e l'ho pagato molto meno e poi anche quello con la ricevuta mi è arrivato subitissimo. E quindi questo rivenditore, diciamo, mi sta piacendo. Anche belle cosette nel suo negozio. Se volete, vi lascio il link giù nell'info box. Ovviamente non ho nessun tipo di collaborazione. Non so, manco... non mi ricordo nemmeno come si chiami. Però, insomma, siccome mi ci sono trovata bene, se siete curiosi e volete vedere qualche cosetta, vi lascio il link. Niente, quindi, questi sono tutti i miei acquisti. In realtà, mi dovrebbero appunto arrivare anche altre cose da Maybelline. Come vi ho detto prima, perché sto facendo uno shopping convulsiva. se vi interessa vedere le altre cose che ho preso, casomai vi faccio un altro video haul. Però, nel caso non riuscissi o altro, vi ricordo che comunque su Instagram di solito posto sempre foto sulle cose che mi arrivano, eccetera. Quindi, se volete, date un'occhiata anche lì e vi lascio sempre il link nell'info box. Spero che il video vi sia piaciuto e io vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!